Musica Semplicemente straordinario, il giovane pianista giolese Alberto Ferro, ieri sera al Teatro Comunale Eschilo, ha incantato, ha eseguito per la sua città gli stessi spartiti che lo vedranno impegnato a maggio al Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali. Ha suonato, tra gli altri, i brani di Chopin e List. Qual è lo spartito a cui sei maggiormente legato? Più che spartito direi compositore. Diciamo che sto approfondendo la musica russa, appunto, nelle esecuzioni di composizioni di grandi maestri come Sergei Rachmaninov, Dmitry Shostakovich, Sergei Prokofiev. Sono molto legato a questa musica, sicuramente anche grazie al mio maestro che mi ha trasmesso la passione. Adesso condividi con noi un sogno nel cassetto. Non lo vorrei dire, però spero, ecco, non per forza diciamo di vincere il Queen Elizabeth perché sarebbe veramente un sogno, però spero di dare il massimo e di ottenere tanta visibilità. E chissà magari di raccontare in musica, attraverso una composizione tua, questa tua esperienza, chi lo sa? Beh, ancora non ho pensato diciamo a fare il compositore perché ci vuole tanto tempo e ispirazione, però mi sto dedicando appunto ai concerti come esecutore slash interprete, però può capitare magari che in futuro mi dedicherò anche alla composizione. Quanta sicilianità c'è in Alberto Ferro, pianista in giro per il mondo? La sicilianità io penso sia simile, cioè dal punto di vista musicale, alla musicalità nel vero senso della parola. Siamo molto calorosi, ci lasciamo andare proprio l'interpretazione. Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto la musica in questi anni? Non mi ha tolto niente, sicuramente mi ha dato, non ho mai rinunciato al mio mestiere e cerco sempre appunto di migliorare e di trasmettere la mia passione per la musica verso tutti. L'iniziativa di ieri sera è stata promossa dalla associazione perfetta Letizia Il Ricavato, sarà devoluto al progetto Music Lab Giovanni Di Geronimo per creare un laboratorio musicale nella scuola di un quartiere gelese particolare come quello di Albani Roccella.